Mamma, dobbiamo cazzare via le formiche che ci hanno rubato l'appartamento! Bene, dovete andare! Questa è casa nostra! Sulla terra voi umani siete 8 miliardi! Noi formiche siamo 10 milioni di miliardi! Era solo questione di tempo prima che prendessimo il controllo! Andiamo a prendere l'insetticida e le sterminiamo tutte! Non ci provi nemmeno signora! E lei chi è? Cosa vuole? Ente protezione animali! Sono formiche rarissime! Non si sogni di toccarle!